musica 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 ragazzi vedrete una persona girare a cavolo per la mappa ve lo dico si ovviamente si spawna in market si compriamo le uova e gliele lanciamo sembra più che giusto prendo hash tanto non so che cazzo fare sinceramente sti gran cazzo che ragazzo che sei carina piacere anto frizio fanno spawn kill mamma mia valla capendo cazzo fanno spawn kill questo allora qua c'è una porta ok un minimo porco due doppia porta così doppia porta greve mi stai dicendo vedremo un attimo non facciamo i i sceni ah doppio rinforzino e non c'è niente c'è qualcuno porco due che c'è qui allora da lì si è messi bene perché quello non uscirà mai nella vita c'è qualcuno giù c'è una gamma non c'è nessuno giù non mai uscire perché ti prefiro fino a che non muori valkyrie prima regola del fight club morire da ash come quella è stronza non abbiamo finito andiamo e che volevo dire ahhh alloghi oh sa manè sulle mani sai perché sa manè sa ma ehhhh frost 3 HP 15 secondi arriva il botto 10 secondi good job nice vittoria per gli attaccati ok una zero polla al centro ma io continuo con ash raga tanto non suona tattica andiamo di kill che cazzo ce ne frego mettiamo scompiglio noi pushiamo perché tanto non conosciamo la mappa quindi non conosciamo i pericoli dietro le mappe sa lagga oh no 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 zio no 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 dai no 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 papà non cagare cazzo te prego vabbè raga ma che cazzo fate addio buon help me 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 ho capito zio devo capì come cazzo te te lo aiuto io che team di sproveduti che team di sproveduti che team veramente devastante raga ma sta mappa è difensivo o offensiva vedete perché bannano cavallera perché non dronano stanno dronare la verona he may ''ha'' il mondo controllo la verona no come vai il mondo un le il non che cazzo vuoi dove in lale va salt stanno questo vabbè capimmo mannaggia quello io entro ragazzi è veramente un bordello veramente un bordello non conoscendo la mappa è tipo cosa sto facendo e non ho droni rimangono 15 secondi oh uno è right uno è right uno è right hanno modificato esce ragazzi capisci un cazzo non so proprio dove andare cioè sto giocando solo di mira proprio uno è buono in attacco vediamo in difesa andiamo in coin prendiamo legion vediamo come sta andando non lo so perché sinceramente non so se in attacco uno va bene in favela eeeh su rotation si fa qualche rotation io che cazzo non so madonna ragazzi ma come fa ad essere bella sta mappa ha 65.000 ingressi ma io posso fare la rotation no c'è il fuori oh shit che cazzo è successo che la spolveriamo un po' che ha buttato la gu mamma mia qua è tutto vai chiudere 100-100 bella sta pic gloriosa piace portentosa lo cazzo se ne abricciamo questi no non uscire non uscire non è in dentro mettila qui dentro ok mettila un'altra lì su niente vanno a così come on bro 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 allaghi allaghi allalala allaghi guarda che so bella mamma mia che killcam fantastica chat dove trovarla allora 2-2 così a cavolo di cane l'hanno aggiunto l'hanno aggiunto in ranked purtroppo si 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 andiamo in altro ah altro coin sempre lì vabbè cominciamo a conoscerla diciamo facciamo cose sempre lì diciamo come ronca ovviamente conoscendo la mappa la di am del am del bad sono sicuro che qui va una legion perchè ce l'ho passato prima io quindi un minimo conosco la mappa oh i chill si 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 aspetta che non te faccio droniamo orta shit si raga la conosco benissimo sta mappa quindi chill fidatemi dovete fidatemi so fortissimo bianni bianni walk 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 on me on me on ping a rincoglio nido telecamera attivata va benissimo one inside ash va benissimo chat non so come non l'abbia preso in testa quella però va bene operatore alleato rimasto va molto bene nooooo chill bro don't panic non c'è più colpi non c'è più colpi monti della spawn quindici secondi 10 secondi e via ma io cosa ho visto ma puoi contro caveira mettere le smoke puoi contro caveira mettere le smoke quella attiva l'abilità è finita ovviamente raga conoscendo la mappa e tutta la planimetria comunque del market cioè io andrei su blue bedroom sì perché la scelta è più ampia e gestibile certo ovviamente cambierei un po' di panetti messi qui e lì però è molto sì sì va bene qua c'è la moto best rotation in the world da quagriano ma puoi ripassarsi cioè sinceramente pacco 2 la squadra d'attacco ha trovato una bomba allora nessuno ha visto niente non cagate il cazzo ok ma come siamo due oh 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 ahhh oh ok l'ultimo nemico rimasto ho pochissimo hp mi ha one shotato Eh, ci sta, 20 HP Solo che, raga, rimanere là non era la scelta migliore Guarda, va sicuro, 100-100 Sì, o sei una bestia Ah Bronzo 2 Nella season scorsa 0-88 E ora gioca così Ok One more insight, one more Bisera Bombi Fuck Ce n'è un altro in fondo Buono, 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 buono così Questa partita è edge, ragazzi, questo è vinto Chat, questo è vinto Questo è perso Questo è vinto Good job, GG's boys Raga, abbiamo vinto la nostra prima partita su Villa, su Favela Gigi E mezzo jitter di là c'era forse Non lo so, è da strutturare la questione Mr. Scheiden Ventus Un somma E' un somma E mi sembra Rub blob 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 blo v Grazie a tutti.